Grave lutto in Inghilterra, è morta infatti Jane Birkin, o Birkin se ne va a 76 anni di età. Era una cantante ma anche un'attrice inglese naturalizzata francese, è stata ritrovata priva di vita nelle sue abitazioni di Parigi, proprio in Francia. La cantante ispirò il nome per la borsa più importante al mondo, quella di Hermes. Aveva una vita ricca dal punto di vista biografico, era nata a Londra nel 46 e poi si trasferì ben presto in Francia, fece l'attrice, la cantante, cancellava di recente diversi concerti per colpa di buoni saluti di cui si era accorta e si dichiarava come in sospensione, faceva però a sapere a tutti che era una incurabile ottimista. aveva una grande passione per la moda, per l'amore, aveva un primo matrimonio già fatto, ma alla fine purtroppo la morte è venuta a prendersela per sempre. Donna semplice, umile e male di grande cuore, questo era la bella, brava e simpatica Jane Birkin. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Jane Birkin o Birkin, riposi in pace, amore.